La prestazione mi sembra di questa parte del campionato è tuttosommato positiva, abbiamo trovato una buonissima squadra, c'è dei giocatori come ripeto che giocano da anni insieme, che si conoscono, però abbiamo fatto bene, abbiamo avuto occasioni come al solito che non abbiamo sfruttato, poi abbiamo avuto il gol, potevamo chiuderla prima, non l'abbiamo chiusa e poi siamo difesi, il campionato è difficilissimo e durissimo, questi hanno preso quattro gol dal Gualdo, oggi il Gualdo ha preso tre gol dal Trestina e quindi ho visto la squadra che ha lottato, che ha corso, che ci ha messo carattere e abbiamo realizzato anche delle buone azioni, anche dei contropiedi clamorosi che non abbiamo poi sfruttato, ancora una volta abbiamo tenuto in piedi la partita fino alla fine, perché se fai il secondo gol la partita finisce. Viola aveva un problemino muscolare, non se l'è sentita di giocare e quindi abbiamo fatto esordire un altro giovane, non ho perso il conto di quanti ne abbiamo fatto esordire quest'anno. Sì, sì, direi che è abbastanza bene, non era facile, però per fortuna ci è arrivato impreparato perché non ho avuto la capacità di pensarci tutta la settimana e quindi è più semplice magari andare in campo così mentalmente stai meglio. Mi sembra ovvio, noi non dobbiamo fare un buon campionato, tutti ci chiedono che dobbiamo vincerlo il campionato e quindi vogliamo vincerlo.